Ciao ragazzi, vi porto oggi insieme a noi a vedere quella che è la fiera di settore più importante italiana per quanto riguarda la carne. Ci sarà la cena di gala della Mistetta, organizzata dal contest dei Golden Stick. Ciao ragazzi, siamo qui con Cristian, l'organizzatore della Golden Stick. Sono Riccardo, abbiamo Luca qua con noi, Luca di Meat Boost. Il nostro collaboratore sarà presente insieme a noi ovviamente per l'evento nazionale, internazionale? Allora diciamo che ci stiamo allargando, diciamo che ci stiamo allargando perché è nato naturalmente nazionale il campionato italiano di cottura di bistecche con l'osso. Ma quest'anno abbiamo avuto richiesta di partecipazione anche da due realtà esterne all'Italia. E quindi diciamo che sì, il nostro futuro è sicuramente quello di allargarlo almeno all'Europa, quello è poco sicuro. Rimaniamo adesso per quanto possibile in Italia, anche perché dobbiamo farci conoscere. Oggi qui ci troviamo alla fiera IMIT di Modena, dove noi abbiamo fatto la preview. Il campionato si suddivide in due fasi, la preview e il campionato stesso. La preview cosa vuol dire? Vuol dire che oggi abbiamo svelato praticamente i concorrenti del 2023, quindi la quarta edizione, l'edizione 4.0. Naturalmente voi avete, come si può vedere, il vostro spazio all'interno dello stand e quindi noi stiamo promuovendo quello che è il campionato stesso che viene fatto, come vedete, il 23 e il 24 settembre a Siena. Per la precisione a Monteriggioni a Siena. Questa è una location molto particolare, una location fantastica. La location che ospita la Miss Italia, quindi diciamo l'evento di Miss Italia, la Kermess di Miss Italia. E ci siamo anche noi. 23 e 24, non dimenticatevi la data. Soprattutto non dimenticatevela voi, perché siete quelli che devono venire a cuocere le bistecche, perché altrimenti non abbiamo chi le cuoce. Noi siamo ovviamente in partecipazione con chi ci fornisce, il nostro fornitore, che è Luca, per quanto riguarda Meat Boost. Luca, questa collaborazione nasce dal fatto che si incontrano due realtà molto importanti. Noi siamo nati da poco tempo, ma in realtà siamo da più di un anno sul mercato rezzano, voi siete ben più conosciuti. La vostra realtà, secondo noi, rappresenta quello che può essere veramente un binomio perfetto insieme alla nostra realtà. Cosa porterete alla Golden Stick? Innanzitutto, ciao a tutti. Io sono Luca, uno dei titolari di Meat Boost. Per questo evento abbiamo deciso di collaborare col Bracente, perché è un cliente, anche se abbastanza nuovo, per noi già storico in precedenza. E abbiamo deciso di portare l'Angus che alleviamo noi. Il concetto, Cristian, è di portare ed è una gara a tutti gli effetti. Allora, una gara a tutti gli effetti, quella di domani sera, che ci troviamo qui a Modena, sarà la presentazione. E domani sera Luca ci porterà un lombo di Angus, appunto che sappiamo che ha deciso questo, e lo andiamo a dare in assaggio a tutti quelli che parteciperanno al Gran Galà. Quante presenze ci sono per il Gran Galà? Circa 150 persone. Noi facciamo come organizzazione, facciamo cuocere noi, perché non è gara, ma è solo presentazione. Quindi diciamo che svegliamo domani sera tutti i concorrenti. Poi, invece, a settembre sarete voi quelli che entrate in pista, noi ci tiriamo indietro, e sarete voi il team completo che entra in pista con l'evento di Monteriggioni, dove si suddividerà in due la giuria. Una, la giuria di settore, sempre formata dai migliori d'Italia, tra cui i componenti della nazionale macellare italiana. Giroberto Giacobbo, nostro presidente onorario ormai di giuria dalla prima edizione. Pasquale Maravita, uno dei più forti, a mio avviso, a livello nazionale, come braceria. E quindi personaggi che ne sanno, quindi lì mi raccomando state attenti a quello che fate. E poi il popolo, perché ricordiamoci che questo evento è fatto per la promozione del mondo della bistecca con l'osso, perché non tutta la carne è carne. Io dico sempre quello. Perciò ragazzi, noi vi aspettiamo e speriamo ovviamente di vincere. Ciao! Ciao!